Buon anno, ho parlato di mio padre che è il mio padre e ci ho fatto che non potremmo continuare a andare su questa orsione che era l'abatto e il confuso adesso mi cominciò a vendere la bucaina e ridurre il nostro territorio E il padre è il mio padre? Il padre è il mio padre, si può ritirare E il suo padre? Lo sapete come è il mio padre? Ho sempre l'ultima parola Ma diciamo che potessi essere convinto Donna, parliamo chiaramente Noi oggi stiamo qui per chiedere il permesso di vendere la cocaina dentro le zone nostre Le zone nostre? Perché sono un zone qui mica mai sui soldati precedenti a parte ho parlato solo altri e tornano in una tavola da voi le zone vostre Ma noi siamo disposti a vendere il nostro cedro Voi non rischiate nulla e intanto vi prendete una fetta dei nostri quadri Guarda chi balla le luci come è il muscicolo che era nato E' le luci di Matteo e Salve Ah, questo è la stessa cosa che ho detto Allora, sono dita a me Poi avete una piazza di spazi annunciato e me lo prendete vicino a me Mi preoccupa che da me guardi una sanità io non bagno la sanità Ho molto con tutto il rispetto mi prendete vicino mi metto a passare hai ragione hai ragione studiate allora vorreici che fai 535 che c'entro se non se ne fa proprio mai faccio solo fissare un appuntamento che vuoi tornare la sanità e poi non vanno la micchia Come volete voi tornare? E' la parte della rostruzione del villaggio Lembino a questa situazione e quando sarei il momento di chiamare Qaslami a questa situazione degli altri o mangiamoci qualche cosa Vino con un po' di vino e poi con un po' di acqua con un po' di vino e poi con un po' di vino Ma c'è senza Grazie a tutti